buona visione non esiste una legge che prestarvi la decenza ecco ti qui ascolta abbiamo trovato stefano da bagnone segui la strada e ti porterà alla abbazia dove ha trovato rifugio aspetta prima di andare prendi puoi servirtene per creare un diversivo grazie amico lasciatevi andare grazie a tutti preghiamo preghiamo pregari pregare per cosi? per l'aiuto del signore se pensate che al signore interessino le nostre faccende ingannate assai ma per carità vi prego continuate a illudervi se ciò vi aiuta a passare il tempo ciò che dite è blasfem no ciò che dico è vero ma negare la sua divina esistenza è l'unica risposta razionale da opporre all'assunto che ci sia un folle invisibile del cielo e credetemi se la vostra preziosa bibbia è il meglio che è riuscito a trovare bene è completamente uscito di sé come potete parlare così indossate le sue adesso vedrò chi aveva ragione dove è jacobo non ho nulla da temere ormai si incontrano a nombra degli dèi romani ora sei libero dalla paura requiescati in pace la giù Grazie a tutti.